Teheran ha corto di soldi. Il cambio tra la moneta iraniana e il dollaro ha raggiunto un livello di scambio record, a ribasso ovviamente. Dallo scorso giugno il Rial ha perso contro la valuta stelle strisce il 20% del suo valore. Le ragioni del crollo sono diverse, prima tra tutte il rafforzamento del dollaro dopo l'elezione di Donald Trump, come ci spiega anche il giornalista Hossein Alavi. Tra i fattori esterni c'è l'aumento del tasso di interesse negli Stati Uniti, che ha aggiunto valore al dollaro nei mercati globali, compreso quello dell'Iran. E poi la promessa in campagna elettorale da parte del taikun repubblicano di rinegoziare l'accordo nucleare, parole che hanno causato grande incertezza nel paese. Per quanto riguarda invece i fattori interni, si è registrato un aumento della domanda di dollari per passeggeri e commercianti. Non è la prima volta che Teheran deve affrontare una simile emergenza. Negli ultimi dieci anni ci sono voluti 9.200 Rial per acquistare un dollaro. Una brusca caduta si è registrata poi nel gennaio 2012 dopo le sanzioni per il programma sul nucleare. Con la salita al potere del presidente Rouhani nel giugno 2013 e l'abolizione delle sanzioni, ci sono voluti sei mesi per stabilizzare la moneta a 34.600. Nel corso dell'ultimo decennio il cambio Rial dollaro è passato da 9.241.600 con un depreciamento di circa il 450%. L'accordo sul nucleare nel 2015 tra l'Iran e le potenze mondiali e la revoca delle sanzioni internazionali hanno permesso al paese di aumentare la propria produzione di petrolio e di riconquistare la sua quota di mercato perduta, grazie anche a importanti contratti siglati con Airbus e Boeing. L'impatto però sulla popolazione non è stato così positivo, in un contesto dove il tasso di disoccupazione è di circa il 12,7%, quello giovanile supera il 27%. I funzionari della Banca Centrale dell'Iran avevano previsto che il tasso del Rial nei confronti del dollaro tornasse alla normalità dopo le vacanze di fine anno, ma per gli esperti economici questo aumento non avverrà a breve. Nelle ultime settimane il prezzo delle materie prime è aumentato notevolmente, questo aumento del prezzo del dollaro poi rende i beni primari ancora più costosi. Se c'è chi parla dunque di un paese sull'orlo del fallimento, c'è anche chi scommette che questa crisi finanziaria potrebbe andare invece a beneficio degli esportatori iraniani.